Buonasera, Obama ha appena dato una strigliata a Barroso, il capo della commissione che sovrintende alle sorti dell'Unione Europea e a Van Rompuy che è addirittura una specie di primo ministro europeo di cui nessuno conosce veramente bene il nome, la vita e le opere, ma insomma è un alto burocrate di Eurolandia. La differenza tra l'America e l'Europa è presto detta, in America hanno fondato una nazione, un paese federale in cui ci sono gli stati federali e il potere federale centrale e questa nazione che si è data una grande Costituzione 200 anni fa ha una moneta, sulla moneta c'è scritto in God we trust, confidiamo in Dio, ma non nel senso in cui lo potremmo dire noi, confidiamo nello stellone, speriamo che Dio ci protegga, no, in un senso radicale, quasi fanatico, abbiamo fiducia in un Dio personale che ci assiste e ci protegge, scritto sul bigliettone verde, sul dollaro. Gli americani sono un paese, una federazione di stati e una moneta. A noi è toccata in sorte un'altra storia, non è una colpa naturalmente, non si deve fare del moralismo. Noi abbiamo fatto prima una moneta e sulla base di questa moneta ci siamo presi il compito di fare un'entità politica, un paese, un paese europeo, una casa comune, peraltro caratterizzata dalla diversità di lingue, di storia, insomma siamo molto diversi, ma il punto fondamentale della diversità, quello che ci allarma a tutti è questo, la moneta viene prima del potere politico comune, integrato, sovranazionale, potere sul fisco, potere sui bilanci, potere su tutti gli aspetti decisivi della vita di una comunità che poi si riflettono sulla forza della sua moneta. Per questo Obama ha fatto una ramanzina ai suoi amici e alleati europei. Obama vuole essere rieletto e non si viene rieletto in America se la disoccupazione esplode, se le banche falliscono, se l'economia non tira. Naturalmente la crisi del debito pubblico, europea, che viene dopo la crisi del debito privato americano, quella dell'autunno del 2008, la crisi che stiamo vivendo noi, si ripercuote, così come quella americana si è fatta sentire in Europa, questa si ripercuote sugli Stati Uniti. E siccome Obama è un pragmatico di Chicago, cioè è un americano normale, agli europei ha detto quello che la Casa Bianca e molti economisti americani hanno detto in queste settimane, in questi mesi, ma come vi viene in mente di avere una moneta e di non avere una banca che la garantisce? Com'è possibile? Una moneta comporta dei rischi collettivi, se è unica, e ha una banca centrale unica, la quale deve sorvegliare la stabilità dei prezzi e questo significa che deve anche ovviamente difendere la moneta dalla aggressività dei mercati. Pragmatismo rispetto dei fatti, un certo modo di intendere la vita, la politica, l'esistenza, un pragmatismo che non è così lontano poi da un'intensa fede nella possibilità degli uomini di fare, pragmatismo appunto, i fatti di fare il proprio futuro. Noi siamo messi un po' peggio da questo punto di vista, anche se poi naturalmente abbiamo i nostri vantaggi e le nostre allegrie. Qual è il punto? Che oggi, mentre Obama faceva questa ramanzina agli europei, venivano fuori i dati dell'Ocse sull'economia, sull'economia che ci riguarda più direttamente, sull'Italia. L'Italia è un paese virtuoso, questo dicono i dati. I conti pubblici italiani, anche grazie a Tremonti, anche grazie a Berlusconi, a Brunetta e a quella compagine che è sembrata così scombiccherata da non reggere all'urto della crisi, vanno verso il pareggio di bilancio nel 2013, 0,1 di deficit. E noi siamo per molti aspetti tra gli europei quelli più capaci di tenere in pugno la finanza pubblica. Ma c'è l'incubo, il pericolo della recessione. Recessione. Il nostro problema è la mancata crescita e la difficoltà di immaginare una crescita. Berlusconi ha detto lasciate lavorare Monti, molto generoso, fin troppo generoso direi. Lasciare lavorare Monti no, però c'è una settimana che ci separa dal momento in cui Monti dirà ecco queste sono le misure per cui è nato il mio governo e queste sono le misure che il Parlamento deve approvare e su questa base io cercherò in rapporto con l'Europa di rilanciare l'economia italiana. Da quello si giudicherà il governo tecnico, dal fatto se saprà davvero mettere a bilancio della sua azione all'avvio non soltanto le lacrime, il sangue di nuove tasse, ma qualcosa di concreto, di forte, capace di rilanciare l'economia italiana. A domani, buon fiorello.